Il tema che predomina sui media, sui giornali, questi giorni è un tema che è importante, che sentiamo assolutamente nostro ed è uno dei temi da cui siamo nati, che è quello della mala politica, che è quello dell'antipolitica, che è quello della necessità di rinnovamento della politica. Questi giorni sono tutti attenti a misurare l'avvicinaggio rinnovato dai partiti. E' un dibattito al quale si distra ecologia e libertà, al quale noi non ci soffraiamo perché a differenza di altri non abbiamo bisogno di mascherarsi in nessun modo, noi non abbiamo niente da nascondere. Non ci soffraiamo perché noi siamo giudici ad avere un bilancio che è pubblico, di cui anche il punto del nostro bilancio, sono oggi dati che sembrano importanti, possiamo andare orgogliosi. Il punto di cui possiamo andare orgogliosi è perché c'è un partito che si regge su energie volontarie, sulla forza delle idee dei suoi militanti e sulla forza del tuo progetto. Non è un compito semplice, è un compito pesante ed è pesante per diverse ragioni. Ne ricordo due, due enormi ragioni. La prima, la difficoltà oggettiva dei problemi, per cui davvero non serve promettere soluzioni miracolistiche, fare le cose facili. Non si possono fare cose, presentare facili cose che sono davvero difficili. E poi la mancanza di risorse che colpisce gli enti locali per le politiche governative, che magari riducono un pochettino gli acquisti di aerei, ma che ne acquistano sempre decine e decine di aerei da guerra che non fermano a niente, non alla montagna. E poi c'è un altro elemento di difficoltà, questo che si dice il clima dell'antipolitica. Questo sparare ad alto zero contro tutti coloro che cercano di farsi carico in questa situazione di difficoltà, di risolvere i problemi, di affrontarli, di affrontarli senza alcun attento personale, perché l'impegno civile è un atto a volte dovuto in un momento significativo della storia della nostra città e del nostro paese. Si tratta di votare il 6-7 di maggio per una persona seria, per una persona che si ritenia nel totale disinteresse della carriera politica. A 54 anni non ho questo problema, non ho questo problema. ne abbiamo visti, ne abbiamo visti altri, che si fanno candidare al consiglio comunale e dopo qualche mese o un anno preferiscono farsi candidare da qualche altra parte, perché le retribuzioni di identità sono migliori. A me non manca da. Io per 5 anni rimango a di direttamente, io voglio rimanere a tutta la mia vita, ma sicuramente per 5 anni ho appunto l'impegno che mi tornerà comunque a svolgere un ruolo di rappresentanza in consiglio comunale e per 5 anni mi occorrerò solo dei problemi della nostra città. È difficile fare le comparazioni storiche, eppure quello che sta accadendo in Italia e in tante altre parti d'Europa, assomiglia in maniera senti e tante con ciò che è accaduto negli anni 30 nel vecchio continente, negli anni 30 del Novecento. Una miscela esplosiva, la disoccupazione di massa, una crisi economica e industriale di proporzioni gigantesche, la crisi finanziaria, la crisi dei partiti e della democrazia. Tra gli anni 20 e gli anni 30 questa miscela esplosiva per l'Europa significò il fascismo, significò una serena di verevi, il rifiuto della politica, l'invocazione dell'angelo vendicatore che arriva a cielo e produce la magia del cambiamento. Amici e amiche, compagni e compagne, la cattiva politica si combatte solo con la buona politica, l'antipolitica è il peggio della cattiva politica. La politica è l'organizzazione della nostra vita, è la discussione su come spiare, è l'analisi critica puntuale dei dolori, delle pene, delle speranze di una comunità. L'antipolitica è l'idea che tutto è semplice, che basta una sorta di esorcismo per scacciare il demone, che basta una pesternia salvifica, rigeneratrice per cancellare ciò che ci offende, ciò che appare usceno. Attenzione, io credo che anche i tecnici che ci governano debbano avere contezza di quanto è diffuso il disagio sociale, di quanto è acubo il dolore e non soltanto di chi ha una lunga esperienza di espropriazione di diritti. Ma il fatto nuovo oggi è rappresentato da un lato, dallo slittamento del ceto medio, verso una condizione di precarietà, di incertezza, talvolta persino di povertà. Ed è soprattutto rappresentato dal destino delle giovani generazioni. Poi è potuto accadere che questa destra si insediasse al potere e diventasse classe dirigente. È potuto accadere perché il mondo del lavoro ha perduto le parole per rappresentare il proprio orgoglio, i propri diritti, le proprie ragioni. È potuto accadere non solo perché loro hanno vinto, fatevelo dire, perché noi abbiamo perso, perché noi ci siamo persi, perché noi ci siamo smarriti tante volte.